Cosa è? C'è una curva Mick abbiamo tagliato allora questi tre capelli lunghi come li vedi, come li vedi? Allora, prima impressione Ma a me mi piacciono, sono parecchio strani sono andati a molti a te godare Che arriva dappena Brocca L'Alessandro Danica è stato Tagli a molti a te godare Baby Shambo Gli dai dai di Shambo Come Brocca? Ti gustano? No! No! No vabbè, noi tagliamo tutti, eh che c'entra però Però così, non è male Anche il bollone qua ci sta benissimo, eh Fa proprio gusto Vaffangusto